Musica Sparatoria nella notte, arrestato un 27enne, feriti due uomini, indagano i carabinieri. Passa il piano di dimensionamento scolastico regionale, l'opposizione in consiglio si scatena. Borsa del turismo esperienziale per il territorio dell'area vasta della Spezia, parola in codice, destagionalizzare. Il futuro delle fortezze sarzanesi, 12 anni di accordo tra comune e ministero e direzione regionale musei per valorizzarla. Spezia Calcio, Daniele Verde resterà fino al 2027, niente accordo con il Palermo. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS giornale, lo avete sentito dai nostri titoli. Apriamo con la cronaca. Un 27enne è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri della Spezia con l'accusa di aver ferito a colpi di pistola due altri uomini. A quanto riferito in una nota dei carabinieri dopo un diverbio per motivi di lavoro. La sparatoria è avvenuta a Bagnola. I due feriti non sono in pericolo di vita. Il 27enne è accusato al momento di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. L'aggressore ha preso di mira un 44enne, un 33enne, soci di un'azienda del settore nautico che hanno subito lesioni in varie parti del corpo. I due uomini sono stati curati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia. L'arma utilizzata, stando a quanto riferito a un revolver, sequestrato dai carabinieri. Il 27enne è a disposizione della Procura della Repubblica. Parliamo ancora di Cronaca. Ha tentato di rubare una borsa di servizio a bordo di un'auto della polizia locale ieri in Piazza Brin, però la sua operazione non è andata a buon fine ed è stato denunciato per tentato furto e per irregolarità sul territorio nazionale. Finire nei guai è un cittadino straniero. L'uomo, una volta fermato, gli agenti hanno anche riscontrato che era in stato di ubriachezza. Ma durante questo intervento è stata arrestata anche una seconda persona, un 19enne che prima si aggirava nella zona sempre di Piazza Brin con fare guardingo. Notato dagli agenti, gli sono stati chiesti i documenti e il ragazzo ha reagito con fare aggressivo per poi colpirli a calci. Il referto per gli agenti è di sette giorni, il 19enne è stato arrestato per resistenza e questa mattina processato per direttissima. Sono arrivati all'aeroporto militare di Ciampino a Roma alle 21.34 di ieri sera con un C-130 dell'aeronautica militare proveniente dall'Egitto. Dieci bambini palestinesi feriti più un adulto che saranno curati nelle strutture ospedaliere italiane, accompagnati dai loro familiari e da alcuni mediatori culturali. Il volo è proseguito per Pisa dove sono sbarcati altri sei bambini, tre dei quali sono stati trasferiti al Gaslini di Genova con una task force della Croce Rossa della Spezia, Follo e di Genova e tre all'ospedale Meyer di Firenze. I bambini arrivati solo quattro giorni fa in Egitto attraverso il valico di Raffa sono stati dapprima curati e stabilizzati dai sanitari egiziani nelle strutture ospedaliere e locali. Una volta arrivati a Pisa tutte e tre le bambine tra i 9 e gli 11 anni che presentavano ferite molto gravi causate dai bombardamenti della striscia di Gaza sono state prese in carico dai soccorritori della Croce Rossa Spezzina di Follo e Genova e poi trasportate durante la notte al Gaslini di Genova. Cambiamo argomento, approvata l'organizzazione della Borsa del Turismo Esperienziale per il territorio area vasta della Spezia. L'approvazione è arrivata oggi dalla Giunta Comunale, parola in codice destagionalizzare. Vediamo il servizio. Il Comune della Spezia organizzerà la prima Borsa del Turismo Esperienziale per il territorio dell'area vasta spezzina probabilmente tra aprile e maggio 2024 con un focus sulle bellezze dell'entroterra. L'ha deciso la Giunta Comunale su proposta dell'assessore al turismo Maria Grazia Fria. Lavoriamo per far conoscere le bellezze della Spezia dei comuni della sua provincia e di tutta l'area vasta dalla Lunigiana alla Garfagnana al turismo nazionale e internazionale così il sindaco della Spezia Peracchini. Questa occasione sarà una vetrina importante per il territorio dove avremo modo di evidenziare i nostri punti di forza e presentare i progetti che stiamo portando avanti in un'ottica di destagionalizzazione. BIT-ESP La Spezia si svolgerà nell'ambito della seconda edizione della conferenza programmatica e prevede la collaborazione dei comuni aderenti al protocollo di intesa di area vasta delle associazioni di categoria e degli operatori economici del territorio e permetterà l'incontro diretto tra gli operatori turistici locali con i buyers internazionali per creare reali occasioni di affari e importanti opportunità di sviluppo economico. La Borsa sarà una manifestazione di promozione commerciale che mira a favorire le esperienze di un territorio che propone un'offerta turistica di qualità. La manifestazione si rivolgerà come target di mercato alla filiera del turismo organizzato italiano e internazionale capace di sviluppare consistenti flussi nell'ambito del turismo esperienziale. Apriamo la pagina della politica con 17 voti a favore 10 contrari è stato approvato in consiglio regionale in Liguria l'integrazione del piano di dimensionamento della rete scolastica approvato con deliberazione del consiglio regionale lo scorso 28 novembre 2023 alla Spezia il dimensionamento interessa i comuni di Vezzano, Santo Stefano, Luni, Castelnuovo e ricode il golfo e in merito c'è il commento del presidente della regione Liguria Giovanni Totti con il voto di oggi si chiude finalmente un dibattito a tratti surreale che ha smascherato le contraddizioni delle opposizioni i consiglieri di minoranza sono infatti esponenti degli stessi partiti che a Roma hanno approvato e applaudito la riforma voluta dal governo Draghi nel 2021 e qui invece per puro opportunismo politico hanno sollevato polemiche strumentali pur sapendo benissimo che nessuna scuola chiuderà e che i ragazzi continueranno a frequentare le classi come hanno fatto fino ad oggi e inevitabilmente questa approvazione del piano di dimensionamento scolastico ha fatto scatenare anche l'opposizione nel servizio di Jacopo Cidale sentiamo il commento di Davide Natale segretario del Partito Democratico Davide Natale, oggi l'approvazione in regione del piano di dimensionamento scolastico qual è il vostro commento? Abbiamo definito questo provvedimento come il peggior pastrocchio che la giunta Totti ha compiuto dal momento del suo insediamento perché c'è un problema, perché oggi noi abbiamo ragionato non di un singolo provvedimento che interesserà il prossimo anno nei prossimi anni, ma riguarderà intere generazioni di studenti e quindi le nuove generazioni Liguri il provvedimento è stato un provvedimento che non ha visto il coinvolgimento dei territori non ha visto il coinvolgimento del mondo della scuola, del mondo sindacale tant'è che già in queste ore sta uscendo alcune dichiarazioni in particolare dei sindacati del settore in cui dichiarano che questo è un provvedimento assolutamente da respingere un provvedimento che non ha nemmeno eco non è nemmeno eco fra i territori pensate che le province di Imperio, le province di Spezia hanno compiuto perfettamente il proprio lavoro nel senso che la provincia di Spezia va a fare tre dimensionamenti e Imperio ugualmente mentre Genova e Savona non hanno compiuto il quanto previsto dalla normativa quindi Genova invece a fare sei dimensionamenti ne hanno fatti tre e Savona invece a fare tre ne hanno fatti due quindi questo è un provvedimento inico che penalizza alcuni territori che dà uno schiaffo ad alcuni territori in particolare a Spezia e Imperia e soprattutto anche all'interno della stessa nostra provincia durante l'ultima audizione è emerso come alcuni sindaci in particolare della Val di Magra abbiano dichiarato che quel provvedimento se fosse dato oggetto di un confronto poteva aver avuto un altro tipo di approccio mentre è stato creato dall'alto e la cosa gravissima, a mio parere gravissima è che il giovedì scorso l'audizione in commissione in terza commissione, appunto quella competente è stata assente la provincia della Spezia quindi il presidente Perachini non si è recato in commissione a sostenere la battaglia che noi consiglieri del territorio abbiamo portato avanti per dare una risposta al nostro territorio e a questo commento si aggiungono anche quelli di Roberto Centri della lista Sans e di Ugolini dei 5 Stelle per Centri sono penalizzate le province che hanno fatto male il loro dovere prima del mille proroga ancora una volta hanno prevalso gli interessi politici e il peso di Genova Ugolini ha aggiunto restiamo fermamente convinti che gli accorpamenti siano un danno per il sistema scolastico in generale e per l'offerta formativa in particolare soprattutto in una regione come la nostra dove la dispersione scolastica ha raggiunto la poco invidiabile vetta del 14% la più elevata del nord Italia l'assessore alla sanità Angelo Grattarola è nuovo membro del consiglio di amministrazione di AIFA agenzia italiana del farmaco la nomina su proposta del presidente della regione Liguria Giovanni Totti è stata ratificata questa mattina dalla conferenza Stato-Regioni alla presenza del ministro per gli affari regionali e l'autonomia Roberto Calderoli e del sottosegretario alla sanità Marcello Gemmato dopo la votazione arrivata ieri sera all'unanimità in sede di conferenza dal 1 gennaio 10.000 ragazzi e ragazzi Liguri da Sarzana Ventimiglia se under 19 hanno l'abbonamento gratuito e se under 26 possono usufruire di uno sconto del 50% sempre sulla tratta da casa a scuola o da casa all'università oltre questo sono stati congelati gli aumenti previsti del 4,5% su tutti gli abbonamenti mensili e annuali per chiunque acquisti così una nota della regione Liguria e anche della quale interviene anche l'assessore Augusto Sartori su un nuovo piano tariffario in vigore su tutto il territorio regionale per ottenere l'incentivo gli aventi diritto possono recarsi in biglietteria presentando l'autocertificazione debitamente compilata il modulo è scaricabile sul sito di Regione Liguria dalla pagina in Regione della Liguria presente sul sito di Trenitalia ed è disponibile anche presso le biglietterie di Trenitalia della Liguria venerdì la festa della presentazione di Gesù al Tempio la Chiesa celebra anche la vita religiosa alle 17 nel Salone Fanelli di Cristo Re il Vescovo incontrerà le religiose presenti in diocesi e quindi alle 18 celebrerà la messa in Cattedrale ce ne parla Italo Longhi Fra Gianluigi 2 febbraio festa della vita consacrata qual è il senso di questa celebrazione? è un senso molto bello molto profondo che viene dall'Oriente e che la Chiesa ha fatto suo anche tra di noi è il momento in cui diciamo in modo concreto che Cristo è la luce del mondo e in questo in questa festa in questa celebrazione saremo presenti noi vita consacrata presente nella diocesi nella sua espressione e nella diversità dei carismi vita consacrata e vocazione sono un tutt'uno e quando si parla di vocazione si intende una vocazione a tutto campo non solo quella religiosa Fra Gianluigi sì perché quando si incontra Cristo la vita non può che cambiare ed è quello che testimoniamo noi e che quando accade questo ci fa fare delle cose straordinarie Suor Lorenzo una celebrazione importante dove parteciperanno tutti gli ordini religiosi come si svolgerà la celebrazione? Gli ordini religiosi si incontrano un pochino prima della celebrazione per stare un po' insieme per condividere le loro gioie le loro preoccupazioni insieme al nostro Vescovo il quale ci illumina già ci porta una sua parola di conforto di aiuto poi saliamo sopra perché l'incontro si terrà nel Salone Fanelli e alle 18 poi saliamo per la celebrazione insieme al nostro Vescovo momento simpatico che è quello del riconoscimento delle lunghe carriere vocazionali ci sarà anche quest'anno? Sì saranno poche quest'anno e il primato ovviamente sempre delle Salesiani io ho sempre detto che avevo sbagliato congregazioni perché sono quelle che arrivano a fare 60-70 però è bello perché è un segno che noi vogliamo rendere visibile proprio perché siano segni di testimonianza anche per le più giovani una celebrazione ovviamente che non è riservata solo agli ordini religiosi e alla vita consacrata ma che è aperta a tutti perché ognuno di noi ha una sua consacrazione alla vita ore 18 nella Chiesa Cattedrale di Cristo Re chi non può essere presente la nostra emittente metterà in diretta la celebrazione storia passionale della guerra partigiana è il nuovo libro di Chiara Colombini che sarà a Sarzana giovedì 1 febbraio dalle 17.30 nella sala della Repubblica in via Falcinello sopra la pubblica assistenza il mattino dopo incontrerà le classi dell'istituto Parenti Uccelli Arzelà per poi recarsi alle erici venerdì 2 febbraio alle 17 nella sala consigliare di piazza Bacigalupi 9 prosegue Piccoli Impavidi fuori luogo Kids rassegna di teatro per nuove generazioni ideata e diretta dagli Scarti centro di produzione teatrale di innovazione da non perdere domenica 4 febbraio alle 15.30 e alle 17.30 lunedì 5 febbraio alle 9 e alle 10.30 in prima regionale il primo spettacolo di progetto GG con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisienti adatto a bambini dai 0 a 6 anni è stato presentato oggi il nuovo accordo di valorizzazione delle fortezze di Sarzana tra il Comune di Sarzana e il Ministero della Cultura direzione regionale Musee Liguria che guarda i prossimi 12 anni e quindi fino al 2036 vediamo il servizio con le immagini Davide Morina un accordo per incrementare l'offerta culturale sarzanese che fa perno sulla valorizzazione delle due fortezze cittadine la firma fede e quella di Sarzanello stipulato questa mattina al Palazzo Roderi un accordo della durata di 12 anni tra il Comune di Sarzana la Direzione regionale dei Musei della Liguria e il Ministero della Cultura che rinnova e rilancia i progetti attualmente in atto frutto di precedenti protocolli la fortezza firma fede e la fortezza di Sarzanello entreranno in quest'ottica in un percorso di valorizzazione culturale unico per cui rispetto al precedente accordo nel quale il Comune di Sarzana versava un canone annuale alla direzione regionale il nuovo accordo prevede invece un partenariato tra le parti si parte dal presupposto di considerare le nostre straordinarie fortezze un unico grande complesso monumentale con un percorso di valorizzazione che arriva al 2036 e allo scopo di individuare secondo la logica del paternariato pubblico privato attraverso un bando pubblico e trasparente un soggetto che abbia la competenza e la forza di ampliare sempre di più l'offerta culturale dei nostri straordinari manieri e proprio nel 2022 i visitatori hanno superato addirittura per la prima volta nella loro storia le 20.000 unità il ministero della cultura ha già messo a disposizione oltre 5 milioni per garantire accessibilità a operanti incendio e di efficientamento energetico e un sistema di percorsi pedonali trasformando così le fortezze in parchi e aree di svago a servizio della città di Sarzana le fortezze di Sarzana hanno un grandissimo potenziale di sviluppo ulteriore l'abbiamo visto negli ultimi anni con le risorse che il comune ha messo in modo molto importante per attività nuove di vario tipo espositive di mostre mentre noi ci siamo occupati e ci occupiamo dei lavori più importanti di mantenimento delle strutture il quantitativo di risorse che abbiamo investito negli ultimi anni ci ha consentito di vedere come le fortezze abbiano delle grandissime potenzialità e adesso stiamo studiando insieme di come immaginarci un nuovo sistema di governance misto pubblico e privato per svilupparle ancora di più continuano gli incontri con l'autore a Santo Stefano Magra nei locali del centro sociale Ruffini ospite di venerdì 2 febbraio 17.30 sarà Paolo Bertini che per l'occasione presenterà il suo ultimo libro La lunga notte di Alcino come e perché è fatta l'odissea Castello di parole va a scuola il secondo appuntamento del 2024 venerdì 1 febbraio si presenta con una formula inedita un incontro aperto alla cittadinanza per la prima volta dedicata agli alunni delle secondarie di primo grado protagonisti al castello di Rio Maggiore Claudia Facchinetti degli studi di biologia marina giornalista scrittrice con il suo ultimo romanzo Lasciami andare quando le orche arrivarono a Genova edito da PM Battello a Vapore Ilaria Lavarello ecologa dell'area marina protetta delle 5 terre 50 anni di storia della democrazia cristiana verrà raccontato tutto in un libro che verrà presentato il primo febbraio alla biblioteca Beghi alle 17.30 ce ne parla Jacopo Cidale con le immagini di Raffaele Maulella la storia della democrazia cristiana e dei suoi politici se ne parla in un libro che sarà presentato giovedì alla Beghi giovedì 17.30 alla Beghi il professor Guido Formigoni che è professore ordinario di storia contemporanea alla Iulm e ha insegnato anche in Cattolica Milano come coautore di questo volume ci presenterà proprio la storia della democrazia cristiana proprio per indagare quelli che sono gli aspetti di quello che è stato il partito stato il partito governo ma anche il partito società più importante della storia della nostra Repubblica i punti principali di questo libro quello che vorremmo indagare è se è vero che esiste ancora quella splendida intuizione democratico e cristiana così la definì Mino Martinazzoli durante l'ultimo congresso della democrazia cristiana ecco questa splendida intuizione democratico-cristiana che nulla è altro che l'idea sturziana di libertà ecco noi crediamo che quanto mai sia attuale questo approccio nella politica nazionale nella politica internazionale di quello che è il contributo che i cristiani e i cattolici possono e debbono dare noi crediamo che nei momenti anche più difficili della storia ma questa è la storia che ciò l'insegna sia nel primo che nel secondo dopoguerra nel primo dopoguerra con il partito popolare di Lugisturzo e nel secondo dopoguerra con la democrazia cristiana di De Gasperi sono stati proprio i cattolici che hanno preso per mano la nazione e l'hanno traghettata al di là del fiume nelle vicende post belliche ecco noi crediamo che questo impianto di valori sia quanto mai attuale soprattutto in un momento nel quale vengono messe in discussione anche le fondamenta del convivere civile e di quello che è l'impianto anche repubblicano ma anche l'importanza dell'Europa non è un caso che proprio i padri fondatori coloro che sono riconosciuti come i padri fondatori della nazione europea De Gasperi Adenauer e Schumann oltre a condividere la lingua madre tedesca condividevano anche la fede cattolica non cristiana ma proprio cattolica noi crediamo che questo possa essere davvero una richiamata insomma dei cristiani alla politica restiamo alla Beghi perché sabato 3 febbraio alle 11 la biblioteca organizza un laboratorio gratuito in collaborazione con Casa do Brasilla Spezia dal titolo volta pagina a carnevale ogni libro vale rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni che ha una durata di circa un'ora e mezzo la prenotazione del laboratorio è obbligatoria per prenotare è possibile contattare la biblioteca e ora una notizia di servizio il punto impresa digitale della Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza in collaborazione con Dintec due desk informativi gratuiti per approfondire le opportunità per le imprese in tema di transizione energetica e comunità energetiche rinnovabili gli incontri si terranno in diretta streaming questi gli appuntamenti in programma giovedì 1 febbraio alle 10.30 giovedì 9 febbraio sempre alle 10.30 per informazioni è possibile scrivere a digitalpromoter chiocciolarivlig.camcom.it e ora un'altra notizia di servizio tutto pronto in confo artigianato per il corso di formazione dedicato all'approfondimento per acquisire la patente per tassisti e noleggio con conducenti ce ne parla Jacopo Cidale le immagini sono di Raffaele Maulella corso di formazione per nuovi taxisti confartigianato organizza un corso in tal merito sì il corso parte lunedì prossimo il 5 di febbraio perché ci siamo accorti che non ci sono giovani che abbiano le abilitazioni KB la patente professionale per le persone che sia possibile assumere dalle ditte di taxi o di noleggio con conducente o che addirittura come sembrerebbe in campo nazionale possano partecipare ad eventuali bandi per l'ampliamento del contingente dei taxi e dei noleggi e quindi questo corso serve proprio per rendere questi giovani abilitati quanto è attuale purtroppo il fenomeno dell'abusivismo? ma diciamo che un pochino col settore delle crociere e con alcune realtà anche territoriali il fenomeno dell'abusivismo anche nel campo dei trasporti e c'è e anche perché in effetti magari non si riescono a trovare persone abilitate quindi possiamo rivolgersi oggi a dei giovani dicendo che il settore dei taxi e dei noleggi con conducenti con il turismo nella nostra provincia è un settore in crescita che ha fortuna anche dal punto di vista economico e quindi potrebbe essere un corso per poi successivamente trovare lavoro apriamo la pagina dello sport parliamo dello spezza calcio Daniele Verde resterà alla spezza fino al 2027 niente accordo con il Palermo ce ne parla Sergio Diofili la notizia del giorno in casa spezza è che Daniele Verde non sarà ceduto il che equivale ad un vero e proprio colpo di mercato il fantasista napoletano era infatti sul piede di partenza destinazione Palermo prima della partita con il Pisa nella quale grazie alla sua doppietta le Aquile si sono aggiudicate la vittoria nel derby da qui il dietro front dei dirigenti bianchi rispetto al passaggio in rosa nero nonostante le numerose avance dei siciliani come riporta il secolo XIX online l'accordo sarebbe arrivato nel primo pomeriggio di oggi con l'attaccante che resta allo Spezia adeguando e prolungando il contratto fino al 2027 due anni in più rispetto all'attuale scadenza che era fissata a giugno 2025 come scrive città della Spezia l'attaccante avrà un incremento di stipendio con una cifra ancora maggiore in caso di ritorno in Serie A contestualmente viene inserita anche una clausola rescissoria pagabile in una sola tranche intanto lo Spezia ha ceduto in prestito al Malaga squadra della Serie C spagnola i due giovani Leonardo Pedicillo centrocampista classe 2003 e Nicolò Lari attaccante classe 2005 a meno di 48 ore dalla fine del mercato dopo gli arrivi annunciati dell'argentino Gregorio Tanco ex Banfield e dei pisani Adam Naghi e Rocco Iureskin le attenzioni della dirigenza ma anche della tifoseria sono rivolte alla ricerca di un attaccante di categoria in luogo delle possibili partenze di Moro e dello stesso Antenucci Ok su pista andrà avanti una sola fra Gamma Innovation Sarzana e Amatori Lodi nel quarto di finale di Coppa in gara unica previsto domani sera al vecchio mercato ce ne parla Andrea Catalani Il Gamma Innovation Sarzana ha dovuto archiviare in fretta e come l'8 a 1 a domicilio in postoli in Serie A1 domenica sera dai campioni d'Italia del Trissino già perché il prossimo impegno chiama e peraltro impellentemente con importanza è quello in Coppa Italia che domani sera sempre al Palatori è impersonato dall'Amatori Lodi altra compagine di enorme tradizione che è l'avversario riservato dai quarti di finale di Coppa Italia ai sarzanesi fischio d'inizio per le ore 20.45 è un po' anche la partita degli ex tra i lodigiani ci sono infatti Fantozzi e lo spagnolo Nachera tra i padroni di casa di ex lodigiani ci sono i due De Rinaldi il padre mister Paolo e il figlio l'attaccante Francesco De Rinaldi nonché l'ex nazionale Domenico Illuzzi che ora andiamo a sentire dunque Domenico non è che questo 8 a 1 che avete buscato contro una squadra per carità da un milione annuo di budget lo sanno tutti ma non è che rischia di avervi un po' demoralizzato ironia della sorte proprio all'avvicinarsi di questa partita in un atto solo da giocarsi in Coppa Italia No alla fine è andata così sappiamo di aver perso contro una grande squadra loro hanno fatto una partita secondo me perfetta forse ci può essere d'aiuto per rimanere concentrati rimanere con i piedi per terra sapendo che mercoledì sarà una battaglia contro il Lodi una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà dall'inizio del campionato quindi concentrati cercare di fare i moneloni possibili cercare di passare il turno una partita dentro fuori e vincerà sicuramente chi giocherà meglio In chiusura veniamo alle previsioni del tempo per la giornata di domani a cura di Limet Centrometeo per la Liguria per questa edizione del TLS giornale questa era davvero l'ultima notizia grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata su Tele Liguria Sud arrivederci una buona serata a tutti voi da parte di Limet permanenza di un campo di alta pressione sul comparto euro mediterraneo tuttavia nei prossimi giorni è atteso il passaggio di deboli sistemi nuvolosi in un contesto stabile il dettaglio per domani mercoledì 31 gennaio notte e mattino poco nuvoloso salvo qualche isolato addensamento sul genovesato e formazione di foschie o banchi nebbiosi sul fondo valle appenninico dal pomeriggio sera passaggi nuvolosi più compatti sul settore centro orientale senza conseguenze la ventilazione a carattere di brezza debole o del tutto assente il mare di conseguenza previsto in prevalenza poco mosso le temperature stazionarie con valori minimi sulla costa che uscideranno tra 4 e 9 gradi le massime del giorno comprese tra 13 e 16 gradi nell'interno minime fino a meno 5 meno 6 sul fondo valle e più 7 in collina le massime del giorno comprese ovunque tra 9 e 13 gradi per questa edizione è tutto maggiori informati come sempre disponibili sulla nostra applicazione e sul sito centrometeoligure.com grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!